La comunicazione digitale integrata oggi è il presupposto per ogni agenzia per presentarsi sul mercato e per garantire un'offerta che sia in linea con le aspettative di mercato e di business e soprattutto per quello che poi gli utenti cercano. Sempre più vediamo che tutte le strategie tendono a considerare i nuovi social, nuove attività legate proprio alla ricerca e all'innovazione, che comprende l'intelligenza artificiale, la robotica, la presenza fisica, di persone guidate anche magari a distanza da altre tecnologie. E quindi tutta questa nuova era della tecnologia ha permesso anche all'agenzia di strutturarsi e di capire in maniera anticipata come il mercato e i clienti avessero già bisogno di coordinare, di avere sempre di più un approccio integrato alla comunicazione digitale che possa garantire risultati in linea con le proprie aspettative.